Domenica pomeriggio alle ore 18 al Palacanizzaro, l'Invicta scenderà sul parquet nell'ultima gara del campionato di Serie D contro la Leonardo da Vinci. Manca l'ultimo tassello per incorniciare una stagione stratosferica per i gestisti nisseni guidati dal coach Giuseppe Spena. Accaccia del dodicesimo risultato utile consecutivo e cominciare a preparare il play-off di fine stagione. È stata un'Invicta da record in questa stagione che viaggia ad un ritmo elevatissimo, frutto di un lavoro nato in estate e messo a punto tra società, staff tecnico e giocatori che possono contare anche di un buon serbatoio di talenti cresciuti in casa. Domenica, dunque, la società si aspetta un balazzetto gramito per sostenere la squadra e proiettarla all'obiettivo play-off. Basket, Serie D, Girone B, quattordicesima giornata. Basket Messina, Sant'Agata. Virtus Trapani, capo basket. Invicta, Leonardo da Vinci. Riposa, Zannella, Cefalù. realtà Thirda, pochi, la società, Strapani, Cefalù l'arribilità il